Per gli amici del basket qui con Michele Maggioli. Michele, siete stati sul meno 10, poi avete avuto la forza di recuperare una forza e quella gara 5 contro Siena si è fatta sentire nelle gambe. Al di là della fatica del primo turno delle cinque gare, a volte avuto il punto di vista dove volevamo essere. Nell'ultimo quarto attaccati alla partita. Poi dopo in quelle situazioni sai, a volte un episodio per la differenza. Noi sono più bravi e hanno vinto gara 1. Quindi il nostro obiettivo è quello, sappiamo che siamo fatti una grande squadra, costruite per vincere. Abbiamo vinto una buona battaglia. Abbiamo veramente meritato il periodo in classifica come ha finito il campionato. E noi dobbiamo rimanere sempre attaccati alla partita perché è una squadra molto forte. E questo per noi è il nostro obiettivo.